Sindaco Maror Delao, sindaco ovviamente di Chioggia, prima giornata degli Stati Generali e della pesca del Veneto 2022, un appuntamento importante per tutto il comparto? Un appuntamento importantissimo per tutto il comparto, una giornata ovviamente a partire da Chioggia è una cosa importante, un segnale importante, l'attenzione che si dà appunto al mondo della pesca nella nostra città. Qui ci saranno degli esperti che parleranno, i rappresentanti anche delle marinerie, dei marinai, degli armatori, quindi da qua deve partire un chiaro messaggio anche al governo nazionale che questo settore importantissimo, trainante anche per la nostra città, non deve essere dimenticato. Chioggia è una delle marinerie più importanti a livello nazionale, un onore e anche un onere perché comunque da Chioggia devono partire anche delle indicazioni come diceva lei anche per tutto il comparto nazionale. E' chiaro che è un onere e anche un onore, più di tutto un onore perché avere la flotta peschereccia più grande d'Italia, la marineria più importante ovviamente d'Italia, è chiaro che è un orgoglio insomma per la nostra città, è chiaro che il messaggio che deve partire è uno, non devono essere dimenticati. Ripeto, è un settore che non deve essere più considerato come un problema dei pescatori, un problema di chi ha il peschereccio, è un problema di una città intera ma anche di tutta Italia perché da qui parte il miglior pesce che viene pescato nel nostro Adriatico e va anche all'estero. Quindi a caduta è un settore che traina un'intera città, parliamo anche di ristoranti che ci sono a Chioggia, degli alberghi, dei bacari, degli stabilimenti balneari, quindi pesca vuol dire anche turismo per noi perché nel pensiero comune cosa si dice? Andiamo a Chioggia che si mangia pesce buono, pesce fresco, ecco questo deve continuare.